ciao ben ritrovati dunque il prodotto di questa settimana il prodotto novità che proverò per tre giorni sarà appunto la crema anti rughe la crema viso acqua alle rose roberts quella con estratto di rosa damascena ed olio di argan rassodante intensivo è un prodotto novità onestamente non so quanto tempo fa sia uscito io l'ho comprata qualche settimana fa che era in offerta perché questa crema normalmente sta intorno ai 10 11 euro l'ho pagata a 5 euro e 70 spicci la analizzerò quindi vedrò un attimino benedinci di capire come è fatto e la apro adesso oggi è lunedì e la utilizzerò appunto da oggi quindi da stasera fino a mercoledì in modo che poi giovedì venerdì vi posso pubblicare il video eccola qua aperta quindi spacchettata la confezione è così molto carina e intanto vediamo anche la consistenza non ha la protezione ma tanto era incelofanata allora innanzitutto posso già dirvi che organelletticamente come si dice cioè le proprietà organolettiche è una crema bianca molto densa molto densa abbastanza ma neanche troppo forse vediamo è abbastanza l'odore è quello tipico di acquale rose roberts quindi la proverò e tra tre giorni vi dico come è andata quindi ci aggiorniamo e proseguiamo questo video anche se sono passati ben più di tre giorni credo che siano passate due tre settimane perché come vi ho detto negli altri video che sto registrando stamattina ho avuto delle settimane pienissime intense per fortuna e quindi non sono riuscito né a registrare né a caricare allora nel frattempo non dico che sia finita questa crema ma stiamo a questo livello allora questa è ovviamente la recensione di un prodotto novità visto che sulla scatola c'è scritto nuova non so quanto nuova sia però cercherò visto che ho poco tempo cercherò di registrare almeno un video a settimana sulle recensioni perché mi piacciono però le recensioni mi portano via un po di tempo soprattutto per la scheda inci che vi ho fatto già nel primo video che vi ho fatto anche che vi faccio adesso vedere anche di questo prodotto per quella con gli ingredienti colorati che credo sia a me piace perché visivamente ci rende subito l'idea però ci metto un pochino a farla perché oltretutto il mio pc non so perché quando cambio colore su questo pc si blocca quindi devo aprire il computer file ma questi sono problemi miei che non vi devono affliggere però credo che sia essenziale insomma per recensire bene il prodotto allora prima di vedere la scheda inci vi dico un po di cose preliminari allora vabbè la profumazione che io adoro questa profumazione di acqua alle rose roberts è meravigliosa la crema essendo un anti rughe è bella corposa ma si assorbe magnificamente si assorbe io preferisco dire si asciuga magnificamente non credo che la pelle assorba più di tanto lascia delicatamente profumata leggera cioè per il mio tipo di pelle mista è promossa calcolando che è estate non mi è piaciuta i livelli delle creme q10 la vera che ho appena fatto il video di butto anche queste per me sono le mie preferite soprattutto questa notte però devo dire che essendo un giorno e notte che sto usando giorno e notte è comoda mi piace non mi fa l'effetto lucido durante la giornata quindi non mi ha dato problemi non ho avuto problemi sulla pelle cosa che spesso mi capita anche con i prodotti specifici per pelle grasse non so perché e quindi sicuramente è un buon prodotto soprattutto per il prezzo al quale io l'ho presa perché io l'ho pagata 5 euro e 70 perché pur essendo un prodotto novità la confezione era perfetta lo stand era nuovissimo però non so perché la cona sotto casa mia le stava svendendo al 50 per cento veniamo alla scheda inci che vediamo insieme io la riapro allora vi faccio innanzitutto vi faccio vedere l'inci allora l'inci lo avete appena visto io lo prendo un attimo in file dunque non farò un esegesi degli inci perché non sono proprio in grado però diciamo che quest'inci non mi sembra malaccio nel senso che sicuramente ci sono un sacco di rossi c'è il propilene glicolico purtroppo che vagamente mi ricordo da un video non è proprio il massimo il dimetivono è molto alto però vedo anche che gli attivi quelli essenziali quindi l'olio di argan l'olio di di vinaccioli l'olio di albicocca se non sbaglio quello dovrebbe essere l'olio di riso e soprattutto l'acqua di rose poi certo potete vedere anche che tipo di acqua di rosa c'è anche l'estratto di rosa da mascena sono comunque questi attivi molto alti cioè sono sopra quindi anche i rossi magari bisognerebbe vedere le quantità quindi diciamo che pensavo peggio quando sono andato a diciamo a comporre quest'inci mentre lo facevo diciamo sarà tutto rosso poi vedevo che mettevo rossi rossi invece devo dire che tutto sommato i rossi sono verso il basso però ecco non mi pronuncio più di tanto perché non sono un esperto non sono nessuno quindi allora i risultati sicuramente questa crema non mi ha dato dei risultati pazzeschi per ora cosa che invece ho notato con altre creme utilizzando ripeto non voglio essere noioso soprattutto con queste di la vera però utilizzandole comunque sia per sei mesi otto mesi consecutivi e via però sicuramente un prodotto che ha una recensione positiva bella la confezione carino il prodotto ottima la profumazione crema leggera pratica da utilizzare da portare in giro visto che è giorno e notte quindi per me comunque un prodotto novità promosso ok ciao ragazzi buona giornata ciao 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 ciao